Prosegue, grazie anche al Retto Occidente, la tradizione dei grandi concerti e dei grandi spettacoli a San Giovanni Val d'Arno, soprattutto nell'estate. Come negli anni passati, San Giovanni si è caratterizzata come una delle città del Val d'Arno, comunque tra Rezzo e Firenze, con gli spettacoli più numerosi e più autorevoli, così anche quest'anno. Chiudiamo il mese di agosto con uno spettacolo bellissimo e strepitoso, Cristicchi e Amara che cantano Battiato, due grandi artisti che ricordano uno dei più grandi, grandi assoluti cantatori, cantanti, artisti a tutto tondo che l'Italia abbia mai avuto. Un omaggio doveroso, Battiato è appunto un grandissimo, ma ha un legame particolare anche con San Giovanni. Come amava raccontare il suo collaboratore Destrieri, il successo di Battiato, molti anni fa, intorno all'uscita del disco La Voce del Padrone, venne proprio a San Giovanni. Da poche centinaia di persone con il concerto di San Giovanni invece migliaia, migliaia e migliaia. Tanto che Battiato raccontava tutte le volte che passava in autostrada da qui, indicava l'uscita del castello e diceva, vedi, lì a San Giovanni Val d'Arno è iniziato il nostro successo. E non potevamo, a tre anni e qualche mese di distanza dalla morte, ricordarlo in modo migliore con un concerto che punta alle melodie, ma anche alle ispirazioni di Battiato, con Cristi Chiamara, concerto mistico e spirituale.